No, non può essere. Da quella parte c'è l'inceneritore. Mi rifiuto di crederci per quanto possa odiarmi. Bene, non appena riusciamo a trovare Miyazawa, le chiediamo scusa tutti insieme, ok ? Spero che accetti le nostre scuse e ci perdoni. Ciao Miyazawa, noi... Fermati, maledetta ! Mi hai fatto arrabbiare, hai fatto arrabbiare me, lo capisci ? Ora vedrai di quali altri città sono cavati quando sono davvero furiosa. Ho perso tutte le mie ore, ma nonostante questo mi sento serena. Sì, urla, gridati, sperati ! Sopi, aiutati, aiutati, mi prego ! Aiutati, ti hai combinato. Aiuto, non passiamoci coinvolgere. Hai fatto ancora qualcosa di poco carino, vero, Tsubasa ? Ti farà bene ricevere la giusta punizione per le tue malefatte ? Guarda che sono i crisi ! Ti abbandonano perché ti sei sempre comportata male ! Mai, grazie ! Mi stai sottovalutando ! Ehi, dai, dai, dai ! Ehi, dai, dai, dai ! Ai, adesso con lui, che cavolo si entra ! Ma che cosa sta succedendo ? Si sente un tale chiasso, non è nemmeno qui ! Ehi, ma quella non è mia zalla ! Ehi, ma quella non è mia zalla ! Ehi, non è mia zalla ! Ehi, non è mia zalla !